benvenuti su claudio masci.com in questo video vedremo come personalizzare il cursore del mouse scaricando da internet alcuni cursori già pronti e andandoli a installare sul nostro sistema operativo ci sono tanti siti da cui scaricare i cursori ma quello che a mio avviso ha la grafica migliore quindi ha i cursori migliori è deviantart quindi vi consiglio di andare su deviantart.com slash tag slash cursors e qui troverete tutti i cursori disponibili su deviantart per poterli scaricare c'è bisogno di registrarsi sul sito la registrazione è gratuita una volta registrati basterà scegliere il cursore che volete scaricare e troverete il tasto download una volta scaricato il file zip dal sito avremo la cartella zip da estrarre quindi facciamo clic con il tasto destro e clicchiamo su estrai i file nel mio caso ho winrar quindi ho le icone di winrar ma comunque funziona nello stesso modo anche con esplora risorse di windows e con 7zip o con altri programmi simili se andiamo poi ad aprire la cartella troveremo al suo interno tutti i cursori da utilizzare a questo punto abbiamo due possibilità la prima è con l'installazione automatica infatti troviamo il file install.inf e l'altra è l'installazione manuale nel caso in cui non volessimo utilizzare l'installazione automatica magari non ci fidiamo non sappiamo cosa andrà a fare oppure magari non è presente questo file possiamo intanto vedere cosa fa andandola ad aprire possiamo vedere le modifiche che fa quindi va a modificare semplicemente le informazioni sul cursore per installarlo facciamo clic con il tasto destro e clicchiamo su installa a questo punto abbiamo installato i cursori andiamo a vedere come impostarli o nel caso in cui non li avessimo installati come installarli manualmente andiamo su start impostazioni personalizzazione temi cursore del mouse e da qui possiamo andarci a selezionare una combinazione quella che ho appena installato è material light la selezioniamo e clicchiamo su applica e in questo modo andremo ad utilizzare la selezione di cursori che abbiamo applicato quindi quella che abbiamo appena scaricato nel caso in cui invece non l'avessimo scaricata quindi non l'avessimo installata tramite l'installazione automatica avremo l'installazione predefinita di windows quindi avremo il cursore predefinito di windows in questo caso dovremo andare a selezionare una per una tutte le voci cliccare su sfoglia e selezionare il cursore da utilizzare una volta completato quindi una volta sostituiti tutti i cursori clicchiamo su salva con nome e assegniamo un nome alla nostra combinazione io l'ho fatto ad esempio con questo una volta assegnato il nome clicchiamo nuovamente su applica e avremo i cursori personalizzati la cosa importante da ricordare in entrambi i casi sia se installiamo tramite installazione automatica sia se installiamo manualmente è che la cartella con i cursori non deve essere cancellata altrimenti li perdiamo quindi vi consiglio assolutamente di non tenerla sul desktop ma metterla in un punto che poi nel quale può rimanere quindi ad esempio in documenti o in immagini questo è tutto come sempre se avete dubbi, domande o suggerimenti scrivetemelo nei commenti vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo e ci vediamo al prossimo